La battaglia di Little, Bai, Horn, la battaglia di Little Big, Horn, combattuta il 25 giugno 1876, fu una delle battaglie più significative della storia delle guerre indiane. In questa battaglia, una forza combinata di Lakota, Sioux, Cheyenne e Arapau, guidata da Toro Seduto e Cavallopazzo, distrusse completamente una colonna di soldati dell'esercito degli Stati Uniti guidata dal tenente colonnello George Armstrong, Custer. La battaglia fu un evento importante per diversi motivi. Innanzitutto, fu una vittoria schiacciante per i nativi americani, che inflissero una dura sconfitta all'esercito degli Stati Uniti. In secondo luogo, la battaglia contribuì a diffondere la fama di Toro Seduto e Cavallopazzo, che divennero icone della resistenza indiana contro l'espansione americana. Infine, la battaglia ebbe un profondo impatto sulla politica americana, contribuendo a inasprire le tensioni tra i nativi americani e il governo federale. La situazione prima della battaglia. All'inizio del 1876, le tensioni tra i nativi americani e il governo federale erano alte. I Lakota, i Cheyenne e gli Arapao avevano rifiutato di abbandonare le loro terre ancestrali nelle Black Hills del sud Dakota, che erano considerate sacre per loro. Il governo degli Stati Uniti, invece, era determinato a ottenere il controllo delle Black Hills, che erano ricche di minerali. Nel maggio del 1876, una grande forza di Lakota, Cheyenne e Arapao, guidata da Toro Seduto e Cavallopazzo, si radunò nei pressi del fiume Little, Big Horn, nel Montana. Il gruppo comprendeva circa 2500 guerrieri, tra cui molti dei più famosi capi indiani, come Nuvola Rossa, Incudine, Corvo Bianco e Cavallopazzo. L'esercito degli Stati Uniti invia una spedizione. Il generale George, Crook, comandante delle forze militari nel territorio del Montana, fu incaricato di fermare la forza indiana. Crook, inviò una spedizione di 1200 uomini, guidata dal tenente colonnello George, Armstrong, Caster. Caster era un eroe della guerra civile americana e aveva una reputazione di feroce combattente. Era anche un uomo arrodante e imprudente, e aveva una scarsa considerazione per i nativi americani. La battaglia. Il 25 giugno 1876, Caster divise la sua colonna in tre parti. Con due compagnie, si diresse verso il fiume Lorobegon, in cerca di una posizione da cui attaccare gli indiani. Caster non sapeva che gli indiani erano molto più numerosi di quanto avesse previsto. Quando raggiunse il fiume, trovò un grande accampamento indiano, con oltre 2500 guerrieri. Caster decise di attaccare immediatamente. Con i suoi 210 uomini, si precipitò contro il centro dell'accampamento indiano. Gli indiani erano preparati all'attacco. Accerchiarono i soldati di Caster. E li massacrarono. Tutti i 210 soldati, compreso Caster, furono uccisi. Le conseguenze della battaglia. La vittoria degli indiani a Lorobegon fu una sorpresa per l'esercito degli Stati Uniti e per il pubblico americano. La battaglia contribuì a diffondere la fama di toro seduto e cavallo pazzo, che divennero icone della resistenza indiana alla battaglia ebbe anche un profondo impatto sulla politica americana. Il governo federale si rese conto che la situazione nelle frontiere occidentali era più difficile del previsto. In risposta, il governo inviò un grande esercito nel territorio del Montana per sottomettere i nativi americani. Negli anni successivi, gli Stati Uniti lanciarono una serie di campagne militari contro i Lakota, i Cheyenne e gli Arapao. Alla fine, i nativi americani furono sconfitti e costretti a vivere in riserve. La battaglia di Lorobegon è ancora oggi un evento controverso. Alcuni storici sostengono che la battaglia fu una vittoria inutile per i nativi americani, che alla fine furono sconfitti dall'esercito degli Stati Uniti. Altri storici, invece, sostengono che la battaglia fu una vittoria simbolica per i nativi americani, che rappresenta la loro determinazione a resistere all'invasione americana. Indipendentemente dalla prospettiva, la battaglia di Lorobegon è un evento importante nella storia delle guerre indiane e della storia americana.